Quattro anni fa giocavamo Moscufo, no? Penso che un altro anno iniziano a giocare in C, una categoria che quasi ci spetta, sperando con il presidente che ha buone intenzioni di tornare in C1 il prossimo anno. Una vittoria voluta dalla società, poi volevo salutare mio cucino, Vincenzo Vivarini, come questa? Satisfaction, satisfaction. Why no, why no, why no? Satisfaction in my heart, it's my son, it's my bitch, you know? E cosa si provo? Sotto con tanta sofferenza, quattro anni lontano i professionisti. È stata dura, ma noi non abbiamo mai mollato, soprattutto da Cuba Volpi, tutti i tifosi neroverdi, il pubblico neroverdi non ha mai mollato, è questo medico anche suo, è tutto il pubblico, è tutta la città. Grazie.